Il DURC, documento che attesta la regolarità contributiva delle aziende che serve a quelle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, si potrà ricevere online. Una novità che farà terminare le lunghe attese per la ricezione del documento. La richiesta fatta dalle imprese fino ad ora doveva sopportare tempi estremamente lunghi. Con il nuovo sistema viene eliminata questa forma burocrata e tutto dovrebbe essere a portata di click. La CGA però lancia un allarme sulla diffusione dei DURC contraffatti. Lo sottolinea il coordinatore in un'audizione alla Camera dove lancia quest'allarme. Abbiamo ricevuto un centinaio di segnalazioni. Diverse aziende presentano DURC falsi e non pagando i contributi riescono a strappare commesse a prezzi stracciati.